I nostri imprenditori agricoli si trovano a fare una gara con la 500 mentre gli altri li usano le Ferrari. La differenza rispetto agli altri paesi europei c'è e si sente. I rappresentanti di Agri Insieme, che raggruppa più organizzazioni agricole, hanno marciato verso Palazzo Ferrofini per chiedere alla politica regionale un impegno concreto per il comparto in sofferenza. Tasse accise sui carburanti e imu agricola stanno deprimendo un settore che deve fare i conti con costi di produzione sempre più alti e prezzi sempre più bassi. La conseguenza paradossale è che a fronte dell'aumento del PIL agricolo stiamo assistendo alla diminuzione della redditività delle imprese. È un dato che quello della crescita del PIL è stato sottolineato in più ambiti, ma ci si è dimenticato della redditività delle aziende. Le aziende stanno male, l'agricoltura in senso generale ha tenuto la crisi, ma le aziende hanno pagato un prezzo molto caro nella crisi. Negli ultimi dieci anni abbiamo perso oltre il 10%, ci sono stime che vanno intorno al 10-15% di perdita e redditività delle aziende agricole. Le attese è quello di che sia cambiata la visione del settore, ovvero sia che diventi considerato un settore economicamente importante per tutta l'economia regionale. Per il Presidente del Consiglio regionale Ruffato è necessario intervenire su più fronti, non ci si può fermare al piano di sviluppo rurale. Il PSR che ci sono a disposizione 1 miliardo e 200 milioni di euro, però non è più sufficiente questo, non possiamo fare solo PSR, dobbiamo in questo bilancio che noi andremo ad approvare le prossime settimane mettere a disposizione ulteriori fondi per rinegoziare il debito delle aziende, per promuovere i prodotti della nostra agroindustria. Grazie. Grazie.